La festività in onore di Santa Rita è alle porte, un triduo di preghiera in preparazione nel santuario di Santa Rita, ma inizia con un momento particolare destinato anche ai giovani. Eh sì, ci sarà l'occasione della Madonna miracolosa che è pellegrina in questo periodo benedetta dal Santo Padre e quindi ci sarà una preparazione anche alla veglia dei giovani e un momento importante di festa anche per Santa Rita con i giovani e la Madonna della medaglia miracolosa. Questo evento a che ora? Il venerdì alle ore 21, il 21 alle ore 21. La festività invece vera e propria di Santa Rita? Sì, intanto vi aspettiamo numerosi compatibilmente con il periodo, però la Chiesa è in condizioni di accogliere di volta in volta le persone che sono ammesse ad entrare. Ecco, la festa è ovviamente il sabato, l'orario delle messe è quello del solito tradizionale, quest'anno riusciamo almeno quelle a farle, ci sarà anche la possibilità di acquistare le rose, un certo numero di rose ci saranno disponibili anche nel piazzale antistante e le messe sono alle 7, proprio all'altare di Santa Rita, alle 8.30 e alle 10.30. Nel pomeriggio invece la messa delle 16, quella con la benedizione dei bambini che sarà presieduta da Don Luca Palei e alla conclusione alle 18 la messa presieduta dal nostro Vescovo. Ecco, un momento particolare di preghiera, Santa Rita una figura straordinaria ancora oggi. Si dicevano nei giorni scorsi la notizia che in questo periodo di pandemia Santa Rita è la santa che è stata più seguita, forse a motivo del fatto che lei a suo tempo lavorò nei lazzaretti senza prendere la peste, quindi molti già da allora si presentarono a lei chiedendo la sua intercessione e ancora oggi continuiamo chiedendo a Santa Rita che ci aiuti in questo periodo attraverso la sua mediazione chiedendo al Signore che passi questa pandemia terribile. Insomma, motivo in più per partecipare alla celebrazione. Direi proprio di sì.